Mi chiamo Cristina Rossi e grazie a un posto da ricercatore finanziato dallo scorso Dipartimento di Eccellenza 1822 sono rientrata dalla Germania per lavorare ad un progetto di ricerca che riguarda uno degli aspetti più originali del Medioevo, vale a dire l'Università delle Origini. L'ho fatto in una prospettiva molto particolare e specialistica che è quella della paleografia latina e ho studiato in particolare testimonianze uniche del Medioevo occidentale, vale a dire i manoscritti autografi di Tommaso d'Aquino. Queste fonti storiche ci danno l'opportunità rarissima di entrare se vogliamo nell'atelier di un maestro, di un filosofo, di un professore dell'Università Medievale e di vederlo all'opera nel momento creativo, quindi nel momento in cui elabora il suo pensiero, nel momento in cui prepara una lezione o scrive il suo libro. Naturalmente oltre a ciò che possiamo scoprire su Tommaso d'Aquino possiamo toccare con mano quello che succedeva in un'Università Medievale, come si pensava, come si lavorava, come si insegnava in un'Università Medievale. Venendo all'Università di oggi, lavorare in un Dipartimento di Eccellenza come Civiltà e Forme del Sapere è una grande opportunità, una grande opportunità perché innanzitutto si lavora all'interno di un ambiente stimolante e si lavora con una disponibilità di risorse che ci mettono in grado di fare bene il nostro lavoro, quindi di fare ricerca di qualità, di seguire i nostri studenti come meritano e non ultimo di rafforzare i contatti che abbiamo a livello internazionale.